Accidenti, guardate com'è questa strana donna, io non l'avevo mai vista così strana. È una della famiglia degli Shokan, però questa ha quattro braccia, volete sapere chi è? Shiva. Voi dovete sapere che Shiva appartiene alla famiglia degli Shokan, però è molto pericolosa ed è anche molto aggressiva perché vi picchia con le sue terribili quattro braccia. Ma c'è una cosa che avete notato, c'ha le stesse dita delle Ninja Turtles. E poi guardate quanti danni ha subito Shiva, ma l'avete visto quanti danni? È ridotta male. Però dovete stare attenti perché non vi sarà facile batterla Shiva perché ha quattro braccia. Shiva appartiene alla razza dalle quattro braccia degli Shokan. I suoi simboli rivelano la sua appartenenza alla stirpe reale del draco. Come tutti gli Shokan, la sua vita è votata Shokan ed è servendolo che onora la propria specie. Durante un attacco di ribelli di Edenia alla fortezza di Shokan, Shiva protesse coraggiosamente la regina Sindel impedendone la cattura. Fu così nominata guardia del corpo personale di Sindel finché questa non morì sulla terra in circostanze misteriose. Shiva è adesso la carriera suprema delle cupe segrete di Shokan. Io vi saluto ragazzi, però vi ripeto che non potete sconfiggerla, Shiva, con le sue terribili quattro braccia.